Lo Spirito Santo è l'artefice principale nel battesimo cristiano. Brucia e distrugge il peccato originale, restituendo al battezzato la bellezza della grazia divina, ci libera dal dominio delle tenebre, dal peccato e ci trasferisce nel regno della luce, cioè dell'amore, della verità e della pace. Lo ha ricordato Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus, recitata nel giorno della festa del battesimo di Gesù, insieme a migliaia di fedeli radunati in piazza San Pietro. La realtà stupenda di essere figli di Dio, ha aggiunto il pontefice, comporta la responsabilità di seguire Gesù e riprodurre in noi stessi i suoi lineamenti, mansuetudine, umiltà, tenerezza. E questo non è facile, specialmente se intorno a noi c'è tanta intolleranza, superbia e durezza, ma con la forza che ci viene dallo Spirito Santo è possibile. Lo Spirito Santo ricevuto per la prima volta nel giorno del nostro battesimo ci apre il cuore alla verità, a tutta la verità. Lo Spirito spinge la nostra vita sul sentiero impegnativo, ma gioioso della carità e della solidarietà verso i nostri fratelli. Lo Spirito ci donna la tenerezza del perdono divino e ci pervade con la forza invincibile della misericordia del Padre. non dimentichiamo che lo Spirito Santo è una presenza viva e vivificante in chi lo accoglie, prega in noi e ci riempie di gioia spirituale. Papa Francesco ha chiesto infine a tutti di cercare la data del proprio battesimo per festeggiarla come la data della nostra rinascita come figli di Dio.